Amici sportivi, ben ritrovati, siamo in compagnia di Joseca Siraghi, atleta della Canottieri Milano, un atleta che ha sicuramente tantissime cose da raccontarci. Iniziamo dicendo un po' il sogno di questa stagione. Beh, come tutti gli anni nel canottaggio c'è il mondiale che è la punta, l'obiettivo stagionale, per non parlare delle Olimpiadi, che è il sogno di ogni atleta. Parlavamo di mondiale, lo scorso anno purtroppo non c'è stato, quindi direi che quest'anno con la grande grinta che poi scaturisce dopo queste cose, direi che potrebbe, perché no, magari rinascere questa voglia poi ovviamente di rientrare. Quante volte ti stai allenando a settimana e cosa stai cercando di fare per riuscire a raggiungere il sogno? Beh, io mi alleno tanto perché la voglia di rientrare è tanta. Nel canottaggio in tutti questi anni ho imparato che bisogna tenere duro, bisogna sempre lavorare non tanto, ma ancora di più per raggiungere gli obiettivi migliori che uno può auspicarsi. Dici un po' dove tieni la medaglia d'oro di quel mondiale del 2009. Ce l'ho in un cassetto, insieme alle altre, insieme a quelle più importanti, quelle che mi piace rivedere ogni tanto, aprendono questo cassetto. Questo è sicuramente un qualcosa che difficilmente gli atleti dicono, quindi una rivelazione importantissima per canottaggio video. Invece volevo sapere anche da te un po' con tutti questi giovani che ti stanno seguendo, un sacco di giovani che ti stanno allenando con te, quale messaggio vuoi dare a tutti questi tuoi compagni di squadra? Il canottaggio è sicuramente uno di quegli sport che appunto lavorando tanto ti fa raggiungere gli obiettivi che magari ti sei prefissato. Quindi loro stanno lavorando bene, stanno lavorando tanto per avere sempre di più, per ogni anno migliorarsi e cercare di poter emergere. Quindi loro stanno lavorando bene e sono molto bravi. Ti do 30 secondi. Prova a convincere una persona qualunque a iniziare a fare canottaggio. È un bello sport, ha contatto con la natura, diciamo che sai sempre cosa stai facendo, sai sempre come lo devi fare, devi lavorare appunto tanto, però gli obiettivi, quello che ti può dare è ancora di più di quello che tu immagini. E allora sapete cosa dovete fare? Cercate la canottiera di più vicina e andatevi a iscrivere. Ciao.